Consentire ai pescatori di raccogliere i rifiuti in mare è questa l'essenza del progetto Arcipelago Pulito che la Regione Toscana sta sperimentando da due mesi con sei pescherecci e che ha presentato a Bruxelles il commissario all'ambiente maltese Vella e al Parlamento Europeo. L'evento è stato organizzato dall'europarlamentare Simona Bonafè. Due gli obiettivi della Regione, prima di tutto ottenere risorse per allargare il progetto a tutta la Toscana. Serve una norma che consente al pescatore di poter fare questa semplice operazione anziché crearsi un'enormità di problemi a portarsi il rifiuto a bordo. Noi faremo un'iniziativa di legge dal basso verso il Parlamento nazionale ma serve anche una spinta dall'alto e cioè da parte dell'Europa. La deputata europea Bonafè ha presentato un emendamento per far recepire l'idea alla base di Arcipelago Pulito nella nuova direttiva europea sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi incentivando i pescatori a portare a terra le plastiche pescate accidentalmente. Al progetto partecipa anche Unicoop destinando parte del ricavato del centesimo che soci e clienti pagano per le buste dell'ortofrutta dall'inizio del 2018. Grazie.